In dettaglio, grande spazio al trono classico e in particolare su Martina e Francesca. La tronista continuerà a criticare il suo corteggiatore Ciro, re o secondo lei di essere interessato solo alle telecamere. Martina inoltre uscirà con Gianmarco, un ragazzo di Roma. La conoscenza sembrerà procedere per il verso sperato. Dagli spoiler di Uomini e Donne, si apprende che grande attenzione anche su Michele e Alessio. Tra di loro la corteggiatrice Amal, che dopo la scorsa puntata si è recata in camerino per un chiarimento con Michele. Uomini e Donne Anticipazioni. Mario chiude con Margherita e Morena. Le anticipazioni di Uomini e Donne, annunciano che nelle puntate dal 21 al 25 ottobre si parlerà anche del trono over. In particolare, tutti gli occhi saranno puntati su Mario Cusitore. L'ex corteggiatore di Ida Platano, e ora protagonista del trono over racconterà di aver trascorso una notte di fuoco con Morena. Ma in studio confiderà di aver passato un momento intimo anche con Margherita, che è ritornata sui suoi passi. Mario però deciderà di mettere una parola fine e di voltare pagina con entrambe le donne. Il napoletano dichiarerà di non sentire un trasporto mentale con Margherita e Morena. Protagonisti inoltre saranno Sabrina e Gabriele, che decideranno di interrompere la frequentazione. Gemma, invece, conoscerà un nuovo cavaliere più giovane di lei.